Carla Messi è il candidato sindaco al Comune di Macerata per il Movimento 5 Stelle, una candidatura che come abitudine ormai di questo movimento uscita dalle primarie interne, quindi da una selezione attraverso il web. Innanzitutto perché la candidatura sindaco di Macerata? Allora, collaboro con il gruppo di Macerata da circa due anni e praticamente siamo riusciti a creare veramente un bel gruppo di persone che lavorano solo per passione e per veramente il bene della città, perché siamo dei semplicissimi cittadini, quindi padri di famiglia, madri, professionisti, insegnanti, rappresentiamo un pochettino tutta la società. Quello che mi ha spinto è stato un po' l'impegno che ho sempre messo, a parte nel lavoro, ma anche per la società in generale, per cui ho sempre un po' combattuto per l'ambiente, per una giusta, per i giovani abbiamo tanti laureati, tanti ragazzi non occupati, tante persone disoccupate e abbiamo una grande città, un gran territorio e tante potenzialità. Macerata si appresta a vivere altri cinque anni come capoluogo, saranno ancora cinque anni difficili, soprattutto sotto il profilo economico. Quali saranno le priorità per questa città? La priorità è quella all'inizio della lotta agli sprechi, assolutamente, perché i soldi ci sono e bisogna impiegarli nel modo giusto, quindi non sprecarli, cercare di vincere tutta la poca onestà che purtroppo c'è. E allora siamo tutti consapevoli, anche oggi sul giornale, a livello nazionale, regionale, comunale, e quindi dobbiamo tutti essere tanto presenti in prima linea nel denunciare, mettersi in gioco come prima persona. Per finire una battuta, lei è una commerciante, quindi vive la città dal basso, cioè sta in mezzo alla gente, quindi sente le difficoltà, i problemi di tutti i giorni. Ecco, questo potrebbe essere un elemento in più per la vostra campagna elettorale e per portare quelle informazioni e soprattutto quegli argomenti necessari a cambiare il volto di questa città. Allora, io sto qui da 37 anni circa, per cui ho visto crescere generazioni e sento il polso della situazione. In effetti, io non vedo una situazione terribile, nel senso che in macerata, i maceratesi credono in macerata, per cui basta solo saper dare fiducia alle persone giuste e penso che sia ora veramente di mandare a casa tanta gente.